Buongiorno, sono Elena Varvello. La mia parola è la parola compassione, una delle parole più importanti per me. È una parola piccola, nel senso che ci vuole solo un secondo per pronunciarla e appena qualche secondo in più per scriverla. Eppure è una parola dirompente, che fa tutta la differenza tra un modo e l'altro di intendere la vita. Ecco, un piccolo appunto per la nostra memoria. La parola compassione deriva dal greco sympathia, che significa sentire con, ed è poi passata al latino compatior. La compassione significa questo, è la capacità di sentire con qualcuno la sua sofferenza, il suo dolore, il suo travaglio. È la capacità di soffrire con qualcuno. Significa semplicemente questo, eppure non c'è niente di semplice nella capacità di accogliere la sofferenza di un altro essere umano così come sentiamo la nostra. Non si è stata della naturale capacità di entrare in empatia con il mondo, con ciò che ci circonda, con le persone che amiamo di più. Non significa sentire dentro di noi, ma sentire con, e c'è una bella differenza. La compassione è frutto di una scelta, è un moto verso l'altro, è l'atto del raggiungere l'altro, ed è una qualità che va costantemente alimentata. È simile una fiamma che dobbiamo accendere e poi mantenere, perché potrebbe sempre spegnersi. Ci sono molte cose che le remano contro. La pietà, per esempio, che non è affatto compassione, oppure le nostre paure. E siamo tutti pieni di paure, siamo tutti pieni di pregiudizi. E allora credo che sia necessario incominciare da bambini, perché è in quel momento della nostra vita che quella fiamma, la fiamma della compassione, si può accendere. Ed ecco, a questo proposito c'è una piccola grande cosa che possiamo fare per i nostri bambini, per i nostri figli. Possiamo leggere per loro, possiamo leggere per loro delle storie, in modo che una volta cresciuti continuino a farlo da soli. Perché è anche grazie alle storie, cioè al racconto autentico delle vite degli altri, che quella fiamma incomincia a splendere, a dirompere e poi continua a bruciare. Pensate per esempio a un'autrice come Elisabeth Strout e al suo personaggio più importante, Olive Kitteridge, e alla compassione che nonostante la durezza e la asperità che la caratterizza un personaggio come Olive Kitteridge prova verso gli altri. Dicono che i libri ci possono salvare la vita. Per me è stato così, non so per voi, ma quel che è sicuro in ogni caso è che i libri, le storie, sono benzina sul fuoco delle nostre qualità umane e soprattutto sono benzina sul fuoco di quella qualità, forse la più importante, che si chiama compassione. Grazie